Un primo tempo perfetto, un secondo tempo inesistente? Un primo tempo perfetto dove bisogna chiudere le partite, non si chiudono perché non c'è quel cinismo, quella cattiveria giusta per poterle chiudere e perché in questo momento piove sul bagnato in casa gavese perché nessuno dice che oggi 5 giocatori stanno a casa a vedersi la partita. Questa è la verità, Palumbo, De Rosa, Lucchese, Andrea Napoli di conseguenza, non come qualcuno dice per scelta, di conseguenza Lucchese a Viareggio con 96 da far giocare e Vaschina in porta. Se poi questo giocatore non riesce neanche a giocare con la Putiolana non è certamente un problema mio. La sostituzione di De Stefano al termine del primo tempo è dovuta a un fattore tecnico per il gol sbagliato? No, Carmine deve capire una cosa, che le partite vanno giù se non deve giocare sempre con sorriso sulle labbra. La partita primo tempo finisce 3-0 e andiamo tutti quanti a casa, andiamo. Soltanto che si gioca sempre con sorriso sulle labbra anche nei momenti dove bisogna invece andare in amazza. Faccio il cambio e Allegretta non ha dato niente. La sostituzione di Ausielo è perfetta, lo dico da presuntuoso, perché Ausielo a un certo punto, è un centrocampo che gira, si è messo a giocare a coppia con Flavio Marzullo. In pratica stavamo invece di 4-3, 4-2-3-1, qua Ausielo che è andato a ridosso di Flavio Marzullo. A quel punto se tu fai l'interno di centrocampo è un conto e giochiamo a tre come stavamo giocando il primo tempo che ha fatto un primo tempo eccezionale. Se poi devo giocare in doppia punta allora metto Suriano che è una punta, Flavio Marzullo sotto e metto il ragazzino di là a darmi ampiezza. Poi è pur vero che questo cambio ha dato frutti perché Pugliese è inesistente. L'altra volta mi avete detto se i cambi sono stati fenomenali, oggi se i cambi non sono stati fenomenali. Ripeto e lo dico perché devo tutelarmi, certi cambi non vanno a buon fine perché inizialmente mi mancano cinque giocatori. E non me li sto sognando, non c'erano. Ovviamente col seno di poi mister, esatto, ma forse inserire, visto che la Pugliese, voglio dire ben poca cosa quella vista al primo tempo, inserire inizialmente un 96 tra Petti e Giordano, che ne so, e continuare con Napoli? Sì, col giornale del giorno dopo avrei fatto Petti, Marzullo, no no, lo dico Petti, Marzullo, Suriano, col giornale del giorno dopo andrei a Napoli in porta. Se poi, ripeto, uno dita da 150 metri, la palla picchia quattro volte a terra, la regola non l'ho fatta io. La regola degli under, qui dovrebbe essere invece che giocano quelli bravi, quelli meno bravi, e non voglio discarsi, si accomodano in panchina, la regola non l'ho fatta io. Oggi non c'era Lucchese, Capaldo purtroppo non c'era, ho dovuto schierare, 2,96, la regola non l'ho fatta io. Come cambia ora il campionato della Gavese? Cambia, cambia, senza due punti cambia, ma cambia nel senso che io al primo posto, forse qualcuno aveva sognato questa vittoria del campionato, sono stato sempre con i piedi a terra, questo è un giro difficilissimo, oggi me ne so accorto, ce ne siamo accorti forse tutti, perché qua non molla un cavolo nessuno, per non dire un'altra cosa, il campionato che stiamo facendo con la vittoria di oggi sarebbe stato ancora superlativo, secondo me, perché abbiamo perso a San Severo, come sapete, perché eravamo in ospedale, oggi infatti si è vista un'altra squadra, secondo tempo poi abbiamo avuto, vabbè questo crollo ripeto per altre situazioni, cambia, dobbiamo fare i playoff, con lo spirito giusto li facciamo, senza lo spirito giusto ce ne stiamo a casa, tutto qua. E domenica abbiamo la riprova, abbiamo la prova del 9 di questa reazione necessaria della squadra? Domenica mi auguro di ripoter proporre i Palumbo, i De Rosa, i Lucchesi, i Napoli, i Capaldi, che oggi sono stati a casa, spettatori non paganti. Come sarà il suo avviso, questo calo che si ha nel secondo tempo, è fisico o psicologico? No, no, questo qui ne parlavo prima con lo staff, questo è fisico, è fisico perché abbiamo fatto 10 giorni di cacca, abbiamo fatto, abbiamo lavorato malissimo perché c'erano altri problemi, altri problemi c'erano, diciamo così, c'erano altri problemi. Grazie mille.